Salve, bentornati, sono Gabri Costa. Ascoltatemi, c'è da sconfiggere questo boss che si chiama Calzaturus, ma bisogna stare attenti a non farci schiaffeggiare. Non sarà facile batterlo perché è grande, è grosso. Avete visto, perde i pantaloni. Ma il problema è che i romani continuano ad arrivare. Ricordatevi che ho già ricensito la prima parte. Questa è la seconda parte, ma il livello non è ancora concluso, non è ancora terminato. Voi romani fate la finita di tirarmi in continuazione ste lance. Calzaturus è grande, è grosso. Se ci sono troppi romani mi basta sconfiggerli con una carica. Questo schiaffo toglie tutta la nostra salute. C'è un'altra parte. Scriviti! devo essere vicino alla vittoria gli stiamo svuotando tutta la sua barra della salute se riusciremo a sconfiggere questo boss riusciremo a completare il quinto atto di questo let's play di questo gioco e vai, vittoria, eliminato i romani rinunciano all'assedio abbiamo finito iscrivetevi al canale mettete un mi piace ciao a tutti, arrivederci grazie per avermi seguito scusate se questo livello l'ho diviso a parti vi ho fatto la prima parte e la seconda parte